Le condizioni in cui versano alcuni marciapiedi e attraversamenti pedonali nelle aree domesi fuori dal centro storico, rappresentano vere e proprie barriere architettoniche per le persone con mobilità ridotta. Il gruppo consigliare del Partito Democratico di Domodossola, allegando decine di immagini eloquenti di diverse strade le vie Scappaccino, Cadorna, Trieste, Sant'Antonio ed Intorni, in una mozione che sarà discussa al prossimo... Autore dei sottotitoli a cura di QTSS